Dal 1 gennaio 2021 a febbraio 2022, oltre 5 milioni di euro sono finiti nelle tasche di persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I risultati ottenuti dai nuclei dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro sono sorprendenti. La benemerita ha denunciato 955 persone per violazione delle norme. C'è chi ha omesso di dichiarare le proprietà, chi ha detto il falso su famiglia e reddito, la residenza, le misure di prevenzione o cautelari a proprio carico o di familiari, chi lavorava in nero. Stranieri che hanno dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da 10 anni per ottenere il contributo. Le irregolarità emerse tra Lazio e la regione con maggiori casi, Toscana, Marche, Sardegna e Umbria, sono il 10% circa delle persone controllate. Quasi la metà dei truffatori sono stranieri, ben 472.